A Gerusalemme Papa Francesco e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, hanno firmato una dichiarazione comune nella quale fanno appello ai cristiani e ai credenti di ogni tradizione religiosa e a tutti gli uomini di buona volontà a riconoscere l'urgenza dell'ora presente, che ci chiama a cercare la riconciliazione e l'unità della famiglia umana nel pieno rispetto delle legittime differenze per il bene dell'umanità intera. Dopo l'incontro nella Delegazione Apostolica di Gerusalemme, teatro 50 anni fa, dello storico abbraccio tra Paolo VI e il Patriarca Tenagora, il Papa e Bartolomeo I sono stati accolti nel Santo Sepolcro dai superiori greco-ortodosso, francescano e darmeno, che presiedono la Basilica. Per la prima volta nella storia della cristianità tutte le chiese di Terra Santa hanno partecipato insieme ad una celebrazione ecumenica. Bartolomeo I ha ricordato che l'incontro di 50 anni fa ha mutato la paura nell'amore ed è l'unica via affinché tutti siano una cosa sola. Quindi Papa Francesco ha detto che il sepolcro vuoto ci fa riscomprire la grandezza della nostra vocazione cristiana, siamo uomini di risurrezione e non di morte. Non priviamo il mondo aggiunto del lieto annuncio della risurrezione e non siamo sordi al potente appello all'unità che risuona proprio da questo luogo nelle parole di colui che da risorto chiamano i tutti i miei fratelli. Non possiamo negare le divisioni che ancora esistono tra noi, i discepoli di Gesù, ma le divergenze non devono spaventarci. Dobbiamo credere che, come è stata rivaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi. Ed ha concluso auspicando che si possa trovare una forma di esercizio del Ministero Petrino che permetta al Vescovo di Roma di svolgere un servizio di amore e comunione riconosciuto da tutti. Grazie.